Amici, oggi parleremo di un periodo misterioso, quello che è chiamato il Medioevo ellenico, il periodo che va dalla fine dei palazzi micenei fino a Omero. È un periodo che copre parecchi secoli di storia. Se è vero che i palazzi micenei cadono alla fine del XIII secolo a.C. è che Omero, colui che noi chiamiamo Omero, su questo punto tornerò fra un istante, scrive i due grandi capolavori della letteratura universale che sono l'Iliade e l'Odissea nel VIII secolo a.C. Quindi dal XIII secolo a.C. all'VIII secolo a.C. sono trascorsi cinque secoli, mezzo millennio. È un periodo estremamente lungo, lungo quanto quello che divide la Firenze dell'inizio del Cinquecento dai nostri giorni. Cosa è successo in quel periodo e come si sono tramandate le leggende, le storie legate agli eroi, chi era prima di tutto questo Omero di cui parla tutta la letteratura universale? Omero è un personaggio mitico. Omero è, oserei dire, la proiezione recente, recente perché risalente al primo millennio avanzato, primo millennio avanti Cristo, la proiezione recente di, nell'immaginario della Grecia, nell'immaginario dei greci, la proiezione di un ideale, l'ideale di un autore che è riuscito a forgiare due capolavori che sono stati fondamentali per la cultura greca, l'Iliade e l'Odissea. Omero, colui che noi chiamiamo Omero, veniva raffigurato in questo modo nella Grecia del primo millennio, l'immagine di un poeta cieco, perché cieco. Vi siete mai domandato perché Omero era considerato dai greci del primo millennio un poeta cieco? perché colui che non vede con gli occhi, vede con il cuore, con la mente e quindi Omero è colui che era capace, grazie alla sua intelligenza, grazie al suo cuore grande, di penetrare nel mistero della della storia degli eroi e Omero era un aedo, secondo la tradizione. L'aedo è colui che girava per il mondo greco, che si soffermava presso le corti dei personaggi potenti di quel tempo, oserei dire dei sovrani di quel tempo, per cantare con la lira le gesta degli eroi del passato. Questa immagine dell'aedo, capace di essere accolto festosamente da tutte le corti della fine del secondo e dell'inizio del primo millennio avanti Cristo, è un'immagine che risale anche al mondo miceneo. Esistevano degli aedi nel mondo miceneo, esistevano dei poeti che accompagnandosi con la lira rallegravano le serate dei sovrani di Pilo, di Miceneo, di Tirinto. Abbiamo delle immagini che sono chiare testimonianze della presenza di aedi nel mondo miceneo. Ad esempio questa immagine di un aedo raffigurato su una delle pareti del megaron, ovvero della stanza principale, la stanza del trono del palazzo di Pilo. E vedete questo aedo seduto su una roccia che accompagnandosi con la lira canta le gesta degli eroi del passato. Vi ho parlato anche di un altro ritrovamento che raffigura un cantante, un aedo. E' questo vaso rinvenuto a Calami in una tomba che ci fa vedere nella parte inferiore del dipinto un aedo che regge con la mano destra una lira a sette corde e con la mano sinistra una spiga di grano. Ricordatevi che l'aedo precedente era associato all'immagine di un uccello. Questo aedo di Calami a Creta, Calami è una località della Creta occidentale, a sua volta è associato a uccelli. E abbiamo detto, analizzando questo vaso di Calami, che l'aedo probabilmente raffigura un eroe mitico greco, Orfeo. Orfeo che era sceso negli inferi, Orfeo che con il suo canto riusciva a sedurre gli animali selvatici, gli uccelli, e non solo gli animali selvatici, ma anche il re degli inferi che gli aveva rubato la bella moglie Euridice. E quindi Orfeo era stato autorizzato a scendere nell'Ade, poiché aveva cantato molto bene di fronte a Ade, il re degli inferi, era stato autorizzato a scendere nell'inferi per recuperare la moglie e riportarla in vita, riportarla alla superficie del suolo. Però il re dell'Ade aveva detto questo d'accordo però a patto che tu guardi sempre avanti, non devi guardare indietro, non devi godere dello spettacolo di tua moglie prima di essere tornato alla luce del sole. Orfeo non ce l'ha fatta, Orfeo non ha potuto resistere, ha guardato indietro e ha visto la bella moglie scomparire per sempre nel mondo dei morti. Detto questo l'associazione tra gli Aedi del mondo Miceneo e Orfeo è evidenziata da questi due ritrovamenti. Abbiamo anche altre immagini di cantanti, per esempio questa bella immagine su un vaso che proviene da Cipro ci fa vedere un Aedo con la lira, questa volta a cinque corde che sembra a sua volta riportare una donna alla superficie e non è affatto escluso che qui di nuovo ci troviamo di fronte a una raffigurazione di Orfeo. Queste immagini sono importanti perché ci fanno vedere che gli Aedi esistevano nel mondo Miceneo e cantavano ovviamente le storie degli eroi, le storie del passato, così come faceva Omero. Ed è probabile che Omero, colui che noi chiamiamo Omero, che è vissuto nell'VIII secolo a.C., quindi cinque secoli dopo, gli Aedi dell'Eta Micenea, è probabile che questo Aedo, che chiamiamo Omero, ripeto, abbia potuto attingere al capitale di racconti, di storie tramandato nel corso dei secoli da varie tradizioni orali. Questo è il motivo per cui in Omero troviamo tanti riferimenti a una situazione anteriore all'VIII secolo a.C. Da questo punto di vista l'Iliade e l'Odissea sono dei serbatoi di antiche storie e antiche leggende che affondano le radici nel lontano passato della Grecia e su questo riteneremo più avanti. Ma è importante capire che colui che noi chiamiamo Omero, quel poeta che ha radunato in un insieme coerente ed armonioso, le due epopee, capolavori della letteratura universale che sono l'Iliade e l'Odissea, si sia preoccupato di mettere insieme dei pezzi che sono stati tramandati per secoli e secoli in seno al mondo delle civiltà dell'Egeo. Vediamo alcuni degli argomenti che tratteremo parlando di questo periodo che va dal mondo miceneo-Omero. Prima di tutto parleremo della Grecia senza palazzi, dei rituali funerari, dell'artigianato, cominciando con la Grecia senza palazzi. Cosa vuol dire? Vuol dire che le grandi residenze principesche sul continente di Tebe, di Micene, di Tirinto, di Pilo, di Lacedemone, sono scomparse definitivamente alla fine del XIII secolo avanti Cristo. Ed insieme a queste residenze principesche è tramontato tutto un mondo legato alla figura della corte, alla figura di colui che era il capo dello Stato e che si chiamava il Wanaka, Anax in Omero. E la parola Anax in Omero è ancora attestata e viene applicata ai sovrani micenei. Agamennone, capo della spedizione greca contro Troia, è chiamato Anax, Anax Andron, il capo degli uomini. Altri re micenei sono chiamati Anax o Anactes al plurale. Però la parola Anax o Wanaka in Miceneo non è soltanto accoppiata ai sovrani. Per esempio la troviamo associata a un desiderio fisico come il sonno. Il sonno viene definito Anax dell'uomo, capo sovrano dell'uomo. Può benissimo essere applicato anche un cavallo. Un cavallo, colui che è il più importante nel portare il carro, è chiamato Anax. Vedete il termine tra il mondo miceneo e Omero si è svuotato dal suo contenuto politico. Nel senso che nelle tavolette lineare B appare evidente che il Wanaka, l'Anax, è il capo dello Stato con tutte le prerogative politiche e anche religiose che sono associate al sovrano, al re, al capo dello Stato. È per esempio capo dell'amministrazione, è lui che gestisce il palazzo, è lui che nomina i funzionari, è lui che interviene nelle cerimonie religiose al pari delle divinità. Quindi è qualcuno che racchiude nella propria persona un insieme di prerogative che fanno di lui un sovrano assoluto. Il capo dello Stato, capo indiscusso delle province del mondo miceneo. In Omero invece, Anax, a volte è effettivamente associato a un sovrano, ma può anche essere associato a realtà ben diverse come un bisogno fisico, il sonno, o a un animale, il cavallo. Quindi questo termine in Omero, ripeto, si è totalmente svuotato dal suo significato politico e religioso. Vedremo che un altro termine in Omero è utilizzato per indicare il sovrano dotato di tutte le prerogative che sono inerenti a chi dirige uno Stato. In questa Grecia senza palazzi cosa succede? Ma succede che la società si va a frantumare. La gente abbandona i grandi siti palazziali e lentamente crea un altro tipo di società. Si trasforma anche naturalmente la società militare, lo vediamo con questo vaso che raffigura dei guerrieri che appartengono all'universo post-palazziale. Tra parentesi questi guerrieri hanno uno scudo che è ben diverso da quello utilizzato dai guerrieri micenei, raffigurati nelle immagini provenienti dalle tombe a fossa scavate da Schliemann. Qui abbiamo dei guerrieri che si proteggono con un elmo rotondo. Prima loro si proteggevano con un elmo a forma di torre. E la Grecia tra il dodicesimo e l'ottavo secolo a.C. ha grossomodo questa fisionomia. Questi sono i siti della Grecia che coprono questo periodo che va suddiviso in tre fasi. Un periodo submiceneo che va dal 1100 al 1050 a.C. Un periodo submiceneo che non rappresenta una frattura forte con il periodo miceneo. Oserei dire che nelle comunità della Grecia di allora la la gente continua a vivere la stessa vita di prima. Semplicemente è scomparsa l'autorità palazziale. Però la gente continua a commerciare, continua ad avere rapporti internazionali, continua a produrre una ceramica fortemente ispirata alle ceramiche del periodo palazziale miceneo. Poi entriamo nel periodo protogeometrico e lì inizia una vera e propria recessione. Vediamo un mondo che si richiude su se stesso. Delle comunità che tendono ad emigrare verso luoghi più facilmente difendibili, sulla sommità delle montagne, su siti che riescono a dominare, che possono dominare le pianure, come se un sentimento di insicurezza dominava l'intero mondo miceneo. Poi abbiamo il periodo geometrico, un periodo che vede un notevole rinascimento in Grecia, rinascimento dovuto, come lo vedremo, a un apporto orientale. Quali sono le caratteristiche di questo periodo che attraversa il cosiddetto medioevo ellenico? Prima di tutto c'è un decremento della popolazione e del numero degli abitati. Non c'è alcun dubbio che la popolazione probabilmente in preda a un sentimento di insicurezza la popolazione si impoverisce. È una popolazione che si impoverisce e vede crollare anche inevitabilmente il tasso di natalità e quindi le comunità diventano molto più piccole. Siamo molto distanti dalle grandi e orgogliose città minoiche omicenee del secondo millennio avanti Cristo. Vi è poi nel campo dell'artigianato una innovazione straordinaria. Ecco che si diffonde il ferro. Quindi passiamo dall'età del bronzo all'età del ferro. Questo rappresenta ovviamente una rivoluzione estremamente importante sulla quale ritorneremo perché di questa rivoluzione saranno ovviamente protagonisti coloro che sanno lavorare i metalli, corono che hanno il segreto della lavorazione dei metalli e che possono influire indubbiamente sulla vita non soltanto materiale ma anche politica delle piccole comunità che si sono venute a creare. Quali sono altre caratteristiche di questo periodo? C'è una innovazione in campo architettonico, la diffusione edifici a pianta absidata e ovviamente in campo funerario la diffusione di nuovi riti funerari che vedono l'adozione dell'incinerazione. In età micenea si praticava l'inumazione con il passare dei secoli, con il periodo geometrico si passa all'incinerazione. Dall'inumazione si passa all'incinerazione. Vediamo rapidamente alcuni di questi edifici a pianta absidata. Ecco per esempio quello di Nicoria. Vedete l'abside, la costruzione con delle varie stanze, delle colonne, basi di colonne che reggevano ovviamente il tetto e chiaramente anche dei luoghi dove si potevano stoccare dei prodotti. ecco un'altra pianta è ricostruzione del cosiddetto Eron, la casa degli eroi di Lefkandi, con l'introduzione di rituali funerari nuovi. A Lefkandi abbiamo ancora l'inumazione, come vedete, vedete qui lo scheletro, con ovviamente la pianta, i corredi delle sepulture rinvenute all'interno di questo cosiddetto Eron di Lefkandi. Ma ecco che nel ceramico di Atene, nel cimitero di Atene, nelle tombe protogeometriche appaiono le prime tracce di incinerazione. I personaggi venivano bruciati su pire e le ceneri raccolte all'interno di questi vasi, alcuni dei quali sono tra parentesi molto belli e eleganti, come questo cratere o questa anfora usati nelle tombe attiche del periodo geometrico. Sono vasi spettacolari che dimostrano anche la straordinaria abilità degli artisti e artigiani di quel periodo. Tra parentesi, è interessante notare che le pitture che sono raffigurate su questi vasi e che si riferiscono ovviamente ai riti funerari, ricordano alcune delle pitture che abbiamo potuto ammirare in età micenea, come ad esempio questo corteo di donne piangenti o uomini piangenti che circondano questo lettino sopra il quale è steso il morto. Abbiamo a che fare con un rituale che è documentato su alcuni sarcofagi rinvenuti in Beozia a Tanagra. Vedete, anche se la società si è profondamente trasformata, anche se si è passato dalla società palazziale a una società di piccole comunità, le credenze del passato sono rimaste vive, non solo le credenze, ma anche tradizioni culturali e pittoriche come risulta evidente dalle immagini che ricaviamo da questo cratere rinvenuto nel Dipilon ad Atene. L'artigianato. L'artigianato è caratterizzato ovviamente dall'introduzione del ferro. E su questo mi voglio fermare un istante, perché vi rendete conto che l'apparizione del ferro rappresenta veramente qualcosa di fondamentale nella storia delle civiltà egee. Si passa dagli utensili e armi in bronzo ad utensili e armi in ferro. questo è legato naturalmente a coloro, alla sapienza di coloro che sono stati in grado di provocare questa trasformazione, questa innovazione, ovvero i fabbri. E qui voglio tornare a Omero e al concetto di regalità di cui vi ho parlato precedentemente. Vi ho detto che il capo dello Stato, il miceneo, si chiamava Wanaka, Anax. Invece Anax in Omero è un termine che è stato svuotato dal suo significato politico, perché Anax è un titolo che può benissimo essere applicato a un sovrano, ma anche a un animale o a una necessità fisica come il sonno. Quindi chiaramente l'Anax non è più capo dello Stato in miceneo. Chi è capo dello Stato in miceneo? Se leggiamo l'Iliade e ancora di più l'Odissea, vediamo che un termine nuovo è utilizzato per indicare il re, il sovrano, è il termine Basileus. Basileus è il termine che attraverso tutta la storia greca verrà utilizzato per indicare il capo dello Stato. L'imperatore di Bisanzio, Costantinopoli, sarà chiamato Basileus. Il Basileus di Costantinopoli di Bisanzio è l'imperatore, colui che racchiude in se stesso il potere assoluto. Ed è questo termine che in Omero serve ad indicare il capo dello Stato. Agamennone e Basileus. Nestore, re di Pilo e Basileus. E allora domandiamoci se questo termine è utilizzato in miceneo. E vediamo che questo termine è utilizzato abbondantemente. Lo troviamo ripetutamente negli archivi di Tebe, negli archivi di Cnosso, negli archivi di Pilo. E cosa risulta dall'analisi dell'insieme di queste attestazioni del termine Basileus in miceneo? Risulta che ci sono parecchi Basileus al plurale nel cuore di un regno miceneo come ad esempio quello di Pilo. Ora, pensate un attimo. Se ci sono parecchi Basileus all'interno di un singolo regno, è escluso che un Basileus possa essere investito dell'autorità assoluta. Perché l'autorità assoluta ovviamente è una sola. Un potere assoluto non viene condiviso con nessuno. Quindi il fatto che vi siano parecchi Basileus nel regno di Pilo, per esempio, dimostra chiaramente che il Basileus in età micenea non è investito del potere assoluto. È il Wanax, ripeto, che è investito del potere assoluto. E cosa fa questo Basileus in miceneo? Studiando le tavolette vediamo che il Basileus è ogni volta un personaggio inserito in contesti molto particolari legati all'artigianato. Un Basileus è per esempio colui che comanda un piccolo gruppo di artigiani. Un Basileus, nelle tavolette che trattano di bronzo, è colui che comanda un piccolo gruppo di fabbri. Quindi il Basileus può essere il responsabile di un gruppo di persone che lavorano i metalli. Nel mondo miceneo ovviamente questi metalli sono l'oro, il piombo, il rame, lo stagno e quindi attraverso la lega tra rame e stagno, il bronzo e l'argento. Questi sono i metalli che possono essere lavorati dai vari Basileus aiutati dai loro assistenti. In particolare il bronzo. Le armi in bronzo ad esempio sono lavorate dai Basileus ai loro assistenti. Ora, quando crollano i palazzi micenei, cosa succede? succede che le società sono a un certo punto orfane dal potere del sovrano. Il sovrano tra le sue prerogative aveva quella di difendere lo Stato, quindi di difendere anche i cittadini. Il capo dello Stato è colui che assicurava la difesa del regno. Crollato il palazzo, scomparso l'anax che comandava il palazzo. Chi è che potrà difendere i cittadini? Chi sarà in grado di assicurare alle nuove comunità che ha visto scomparire i regni micenei? Chi sarà in grado di assicurare la salvaguardia e la sopravvivenza di queste comunità che si sono create in zone spesso impervie, facili da difendere? Sarà ovviamente colui che è in grado di forgiare le armi necessarie alla difesa delle comunità. Quindi il Basileus, che era in età micenea capo di un gruppo di personaggi in grado di lavorare i metalli, diventa nell'età post micenea e in particolare nell'età del ferro, diventa colui che gestisce la fabbricazione delle armi, delle armi in ferro e quindi che può assicurare la difesa e l'incolumità delle popolazioni orfane del potere palazziale. E quindi colui che a un certo punto diventa talmente importante da essere considerato dai suoi simili come il paladino in grado di difendere la comunità, lentamente ma inesorabilmente diventa il Basileus a tutti gli effetti. E diventa colui che viene investito dall'autorità assoluta perché capace di difendere la comunità in seno alla quale lui vive e che lui può rifornire di strumenti in grado di assicurare la sopravvivenza dei suoi concittadini. Credo che questo ci spiega perfettamente l'evoluzione semantica di Basileus da semplice capo di una corporazione di fabbri in età micenea a personaggio investito dal potere assoluto nella Grecia del primo millennio e fino all'età bizantina. Diamo un'occhiata ad alcune delle produzioni artistiche di questa Grecia del periodo protogeometrico. Guardate, vasi molto severi ma anche molto belli. Alcuni del periodo geometrico di grandissima eleganza che riprendono tematiche già attestate nel mondo miceneo. Non vi è soluzione di continuità nella produzione artistica, vi è soltanto soluzione di continuità molto forte in campo politico. Vediamo ad esempio questo bel suonatore di Formings. Vedete l'immagine dell'Aedo si protrae, così come vediamo rapidamente alcune figure di diventata seduta a cavallo da Arcanes. Questa statuina di centauro da Lefkandi, un modellino di tempio di Arcanes con personaggi che guardano dal tetto per vedere quello che avviene all'interno della cella. E questa è un po' una prefigurazione dei culti misterici del primo millennio. La famosa triade divina in bronzo dal tempio di Dreros, cavalluccio geometrico dal santuario di Olimpia e infine lo scudo orientalizzante dalla grotta dell'Ida. Perché con l'ottavo secolo, con gli inizi del settimo secolo, è una nuova primavera che nasce nel Mediterraneo orientale e nel mondo egeo. Una primavera che porta il marchio delle civiltà dell'Oriente e in particolare questi bronzi che provengono dal Monte Ida ci fanno vedere scene orientalizzanti estremamente chiare che mostrano una volta in più che l'Oriente ha avuto un ruolo estremamente importante nella formazione della cultura e anche del pensiero della Grecia del primo millennio avanti Cristo.